La nuova frontiera della medicina estetica si basa non tanto sul trattamento della singola ruga, ma sul concetto di bellezza dinamica, per intervenire sulla struttura del volto con filler iniettabili di ultima generazione, che rispettano la fisionomia e l'espressività di ogni singola persona. La tecnica più innovativa di questo nuovo paradigma mini-invasivo che rivoluziona il concetto di ringiovanimento del volto è la tecnica MD-Coats, messa a punto dal professor De Maio, per un trattamento che può essere modulato nel tempo a seconda delle zone del volto da trattare e dell'obiettivo che si vuole raggiungere, considerando che le richieste più frequenti di chi si rivolge ad uno specialista della medicina estetica sono di apparire meno stanca, meno arrabbiata o più attraente. Gli MD-Coats oggi rappresentano una valida alternativa alla chirurgia. Immaginiamo che qualcuno non abbia piacere di sottoporsi alla chirurgia, che ha come conseguenze in attività per un certo periodo ematomi e cicatrici. Oggi noi possiamo offrirgli un'alternativa chiamata appunto MD-Coats. Per chi è giovane si può utilizzare la tecnica MD-Coats per migliorare il mento o dare una nuova forma alle labbra. Per le persone più mature la tecnica è indicata per il trattamento del rilassamento cutaneo e delle borse sotto gli occhi. Tutto ciò che cerchiamo di ottenere è modificare i messaggi negativi del volto, perché man mano che invecchiamo aumentano i messaggi negativi che il nostro viso invia al mondo. E fra questi il primo è la stanchezza, il secondo la tristezza, il terzo è la lassità cutanea e il quarto è la sensazione di apparire arrabbiati e con uno sguardo severo. Ci sono però anche quattro messaggi positivi che vogliamo comunicare, a seconda del momento della nostra vita che stiamo vivendo. Il primo sicuramente è che vogliamo apparire più attraenti, mostrando la miglior versione di noi. E infatti il concetto di giovanile ricorre spesso nelle richieste delle mie pazienti. Non necessariamente per apparire più giovani in termini di età, ma più giovanili, questo sì. Un'altra richiesta frequente è quella di modificare la forma del viso per avere una miglior definizione e un contorno più snello. Le donne poi chiaramente desiderano un volto più femminile e gli uomini un tratto più virile. Sebbene gli MD codes siano una specifica tecnica medica, possiamo fare un paragone con la preparazione di una ricetta, perché se vuoi creare un buon piatto, così come se vuoi costruire una bella casa, devi avere un piano da cui partire. Ed è ciò che noi facciamo con gli MD codes, perché se davanti a me ho una donna di 30 anni e la confronto con sua madre, che potrebbe avere 55 o 60 anni, vedrò che entrambe potrebbero avere bisogno di un trattamento, ma in aree diverse del viso. Ed ecco perché usiamo gli MD codes in modo selettivo e personalizzato, con un paradigma semplice. Più siamo maturi, più MD codes saranno necessari. Per chi è più giovane, invece, saranno sufficienti un minor numero di MD codes ed anche una minor quantità di prodotto. Da questo si capisce che sia la quantità di trattamento che il numero di sedute sono strettamente collegati alla condizione di partenza, se si tratta di un volto giovane o anziano, quindi, ma anche alla struttura del volto, perché una buona struttura richiederà minor numero di MD codes, mentre chi nasce con una sfavorevole struttura del volto avrà bisogno di un maggior numero di trattamenti per ottenere un risultato soddisfacente. Anche quest'anno il dottor De Maio ha partecipato al programma di formazione promosso da Allergan e ha trainato quasi 500 medici italiani sul nuovo approccio che è una vera e propria rivoluzione nel mondo della medicina estetica, i cosiddetti MD codes. Gli MD codes sono un percorso educativo rivolto ai medici specialisti del settore che cambiano un po' la filosofia di trattamento per i trattamenti estetici iniettabili a base di acido ialuronico. I nostri in particolare sono i prodotti della linea sviluppata con tecnologia Vicross che hanno un particolare tipo di acido ialuronico crosslinkato con delle caratteristiche particolari e d'avanguardia in termini proprio di densità del prodotto e di risultati ottenibili. Gli MD codes sono una rivoluzione perché laddove non esisteva uno schema di trattamento, una strategia, vanno a identificare delle aree del viso, cosiddette subunità, nelle quali è possibile praticare le iniezioni per conferire al volto del paziente intanto risultati assolutamente naturali nel rispetto dell'espressività e della mimica del viso e poi a ristabilire le proporzioni, l'architettura del viso. Questo è importante perché in passato banalmente ci si recava dal medico estetico e si pensava che l'elemento che inficiava poi l'aspetto del volto era la singola ruga. Ma purtroppo i risultati che si ottenevano non solo erano non completi in termini di soddisfazione del paziente ma non erano la strategia più indicata per quel volto specifico. Gli MD codes mirano a dare un assoluto valore all'interazione che precede il trattamento tra medico e paziente perché è importante indirizzare il paziente verso le reali esigenze del suo aspetto. Questo perché il paziente in prima battuta spesso propone, fa delle richieste che non sempre sono ciò di cui ha bisogno. In inglese il dottor De Maio ci dice patient wants è spesso differente dal patient need. Spetta ai professionisti del settore in questo caso ai medici estetici dare un contributo in fase di consulto fondamentale a far capire al paziente intanto qual è il piano di trattamento da eseguire e da portare avanti nel tempo perché nulla è possibile non esiste la bacchetta magica una seduta e via oppure il ringiovanimento to cure. Ma è una riflessione attenta e specifica anche sull'immagine esteriore che il proprio volto vuole trasferire. Spesso i pazienti raccontano ai propri medici che quando incontrano persone per la strada le stesse gli dicono ma sembri stanco quando in realtà non si sentono interiormente così. Quindi questo approccio è la tendenza la tendenza più d'avanguardia per far sì che poi l'aspetto che si trasferisce all'esterno sia in perfetta sintonia con quello che sentiamo dentro con gli attributi emozionali come li chiama il dottor De Maio e che sono alla base di questo approccio di formazione appunto gli MD codes. Gli attributi emozionali sono delle riflessioni che attraverso delle card che si mostrano al paziente vogliono far riflettere lo stesso sull'aspetto che desidera ottenere in termini di risultare meno triste meno arrabbiato meno stanco o più attraente o comunque più magro. Questo è un percorso importante perché l'interazione tra medico e paziente ha la stessa valenza del prodotto di qualità. Noi abbiamo prodotti che fino a pochi anni fa era impensabile pensare di avere prodotti che in termini sono mini-invasivi e sostituiscono a pieno diritto quella che una volta era la chirurgia tradizionale. Una volta si parlava soltanto di chirurgia plastica ora quei tempi sono andati. grazie a tutti. Grazie a tutti.